Hai acquistato un drone o una camera DJI e vuoi approfondire le tue conoscenze nel campo della fotografia? Con il corso di fotografia per Filmmakers DJI Arts imparerai a scattare fotografie o registrare video tecnicamente perfetti in ambienti aperti con i tuoi dispositivi fotografici. Esplora i principi teorici della fotografia e scopri i segreti della composizione fotografica e le migliori tecniche fotografiche per realizzare fantastici filmati e scatti fotografici aerei. Questo e molto altro ancora per ottenere sempre il massimo dai tuoi dispositivi DJI. Al termine delle lezioni, dopo aver superato un test di valutazione, riceverai un attestato di partecipazione al corso DJI Educational. Sei pronto per cominciare questo fantastico viaggio nel mondo della fotografia? Grazie a tutti.